Speriamo che questa volta questa sia l'unica snapshot che non si mettono ad aggiungere un sacco di roba senza senso tipo i creep volanti I creep Cosa ad aggiunto? Cos'è sta cosa? Cari amici benvenuti in questa nuova snapshot di Minecraft Dopo questo assalto di creep volanti che sfortunatamente, molto sfortunatamente, non sono una vera aggiunta ma sono solamente dei command block Quindi non temete, non hanno aggiunto i creep volanti Li avevano già aggiunti prima C'è un Batman qui nascosto schifoso che lo fa volare, no? Non temete ancora, non sono diventati così pazzi Comunque questa è la snapshot 14 W33 E volevamo dire, dato che ogni volta la settimana scorsa per la 32 hanno sempre fatto delle snapshot correttive che aggiungevano anche un sacco di cose Volevamo dire, speriamo che stavolta sia tutto insieme Oltre che i bug Perché come potete notare da alcune piccole cose Non vanno come dovrebbero Guardate com'è E non lo noterete anche tra poco Siamo nello stesso mondo dello scorso video delle snapshot Perché molti di voi vorranno sapere che cosa, chi si cela dietro le varie costruzioni Lo diremo a fine video Se ancora non avete partecipato a questa scommessa e volete farlo Vi lasciamo il link in descrizione e correte a vederlo prima di finire di vedere questo Ma ora passiamo alle novità poche ma buone se volete In realtà non è detto ma le guardiamo lo stesso Di questa nuova snapshot Innanzitutto C'è un tizio inquietante qui dentro Abbiamo questo tenerissimo Iron Gone E questo tiziano che Ora Attaccherà i creeper Non sappiamo se li vuole attaccare o se più che altro Stanno giocando a lanciarsi uno dall'altro lato Perché mi sembra che più che altro siano divertendo A lanciarsi da un lato e l'altro del recinto Probabilmente quello lo scopre Un gioco nuovo tra creeper e Iron Man Si Iron Man Iron Gone Da cui non siamo stati esclusi Ecco qua E quindi due in poi state attenti Perché i vostri Iron Gone potranno difendervi dai creeper Ma al contempo i creeper esploderanno vicino a degli Iron Gone E quindi attenzione Altra modifica che è stata naturalmente Il fatto che io alle porte di OAK Si chiameranno OAK DOR Per differenziale delle altre E hanno fatto una modifica alle texture Che in realtà non mi convince tantissimo Se vi ricordate Se no vi costringeremo In realtà volevo dire Vi consiglieremo Di andare a vedere il nostro vecchio video Il 32 CD La snapshot 32 CD Per ascoltarvi un po' di buona musica No volevo dire Nessun CD Adesso siamo ai Blu-ray Dovete cercare di Guardare che prima c'era un bel modello Era un bel modello un pochino più tridimensionale Noi pensavamo di dire A Tiziano non piacciono le porte E anche secondo me Sono storte e non gli piacciono Secondo noi Dovrebbero dovuto aggiornare il vecchio La vecchia texture per quella nuova Invece è giusto di mettere la nuova Uguale a quella vecchia Fateci sapere Magari a voi piace più così Comunque è una piccolezza Non è che sia veramente importante Che cosa si pensa di tutto questo Infine abbiamo con noi un ospite Esatto Abbiamo con noi Bigre Bigre Credevate che fosse semplicemente Una persona finta Magari no Ma vi possiamo garantire che Bigre Bigre Ciao Bigre Eccolo E ciao Vedete È vero E voi che pensavate male Questa è Bigre Torna a nanna Brava Queste sono le modifiche Della snapshot E la sono già finite Questa è una cosa extra Che ci tornavamo a dire Quindi Volevamo fare delle cose bonus Perché come vedete Alcune volte le snapshot Finiscono subito Basta Fine Basta È finita male come storia Ma si sa a volte le storie brevi Finiscono malissimo Questa cosa aggiuntiva E naturalmente ringrazio Seth Bling Che molti di voi Probabilmente conosceranno meglio Come Seth Bling Ancora nessuno L'ha regalato una tastiera Mi chiedo perché Perché usa un plugin Che si è costruito da solo in Minecraft Quindi complimenti Perché sicuramente È veramente bravo Seth Bling A creare queste cose E grazie perché mi ha aiutato Con il suo tutorial A capire Mi volevo interessare di più Su quanto riguardo Gli armor stand Ebbene ho capito Come si possono creare Delle sottospecie Di pose particolari Oppure delle specie Di animazioni E quindi ho creato Questa sorta di big Che ti accoglie Va che bello È bellissimo È spaventosamente Fatto bene No vabbè Ho messo un bel po' Di command block Per fare una cosa Meno scattosa possibile Nota che c'è qualche command block Però è carino Qui sotto Sono tutti command block Non ve li mostro Ma fidatevi Sono tutti command block Ok E questo vi permette Di creare Alcune pose interessanti Che possono essere Sia delle micro animazioni Se avete voglia Di impazzire con il command block Oppure alcune cose carine Guardate Ma siamo noi due Che ce ne abbiamo Ho creato queste cosine Questo qua Con lo scudo Che si prepara Con un fendente Che probabilmente Si taglierà la testa Per sbaglio Ma cosa E poi io che sto correndo Come un tungsteno Senza scudo E non ho lo scudo È stato terribile Mettere sto scudo Come ho messo sto scudo Col fatto che qui c'è Una Una armor stand Invisibile Ve la Ve la mostro No Sì ve la mostro Così vi faccio capire Vi avevo detto Che hanno messo Questo nuovo entity data E ora vi mostro Come funziona Avevo cercato di non Di non Non l'avevo spiegato molto Perché all'inizio Non l'avevo del tutto Compreso Che effettivamente Era un pochino Difficile Facciamo così Allora Type Uguale Se me lo ricordo Armor stand A questo punto Scrivo Raggio Uguale Due Ok E diamogli Uno scopo Gli diamo il fatto Che non sono Non devono Essere invisibile Se me lo ricordo Guardate Mi merito Un premio gigante Sì Bravo A memoria Che bravo Bravissimo Come vedete In realtà Questo è un armor stand Che mette il brush In un modo assurdo Per far finta Che lo scudo In realtà Lo stia tenendo Chiria Ma è tutta Una Finzione letteraria Finzione letteraria Dovete stare attenti A usare bene Se no Ecco fatto Eh che carino Se abbiamo Vi piace Ci ho messo Un secolo A capire Come si facesse Ma alla fine Sono delle pose Abbastanza realistiche Ma può sembrare Una battaglia E Come si fa Ve lo mostro Che magari potete essere Interessati A capire anche Quest'animazione Vi faccio vedere Solamente le cose Basi Innanzitutto Dovete scrivere Entity data Serve per fare In modo che possiate Cambiare Una entità Già esistente Se no Io ogni volta Dovevo fare Summon Ovvero Evocare Una Armor stand Diversa Invece Se è stata Una foglia Grazie a Entity data Io posso Modificare Un'entità Già esistente Quindi io Faccio Modifico La stessa Armor stand Dandole per esempio Dei valori diversi In questo caso La ruoto Qui a 60 gradi Qui 90 gradi E via via Se ci voglio Modificare una parte In particolare Posso per esempio Modificare la posa E È in base Per esempio Abbiamo la head Che è la testa Poi abbiamo il body Per il corpo Right arm Left arm Le braccia Right head Scusate La testa di destra Right leg Left leg Per le gambe E questi qua Sono tre Coordinate Come potete fare Alzare Abbassare Vari tipi di rotazioni Sulle vari assi Ricordatevi La F La F è fondamentale Se no non funziona Ricordatevi Di metto un raggio Abbastanza grande Perché se il command block È molto lontano Non prenderà Altrimenti Se non mettete il raggio Prenderà tutte Le armor stand Magari non volete Volete solo Selezionare alcune Quindi Spremmo Che possa essere stato Un minimo utile Questo piccola cosa Che anch'io Ho imparato A caso Guardi c'è questo qua Per esempio Ho cambiato Il braccio Destro E si vede Tutto il comando Se non si vede Comunque il comando È entity data Bene Quindi Ultima volta C'è un'animazione Di bigger Che voglio proprio Goderm Bigger Ciao bigger Mi porce la pumpkin Giustamente Ma voi siete qui Per vedere Creeper volanti Giusto No non era per quello Avete scommesso Se non avete scommesso La vostra ultima Possibilità per farlo Mettete in pausa E vedete il video In descrizione Altrimenti Ora vi daremo La risposta Su chi Ha fatto Le varie costruzioni Vi vogliamo dire Subito una cosa Era molto Molto difficile Perché non abbiamo Fatto qualcosa Di così facilmente Azzeccabile Ci sono casi Che sprizzano Peccone Tra tutti i pori O birce Che brucia Quindi In ogni caso Grazie a tutti Per aver partecipato Grazie E non vi preoccupate Se non l'avete azzeccato Perché era effettivamente Difficile Era più che altro Anche una cosa di fortuna Comunque Facciamo i complimenti A chi è riuscito In ogni caso Non sappiamo Se si è riuscito Ad avere molta fortuna Se è stato qualche Grandissima bravura Comunque Qualcuno Ci è riuscito Quindi vuol dire Che era difficile Ma Non impossibile Iniziamo In ordine Questa è La casa sull'albero Da cui stanno Stiamo coltivando Dai Giato che molti Potevano dire Come si fa Vi mostro anche Questo comando Dato che la snapshot Non aggiungeva niente Fatemi dire qualcosa in più Qui avete creato Un creep Che sta Riding Un bat Che ha Come Effetto attivo Un ID14 Che è L'invisibilità Molto molto semplice Nel certo punto di vista E E Questa è stata Creata Da Da me Esatto Ecco qui La casa sull'albero Creata da Kiria Quindi Bravi a tutti Quelli che hanno Zecchato Questa Serra di Acacia Ha dato Un pochino Di filo Di filo Da torcere Perché È Simmetrica E Molti di voi Qualcuno ha detto Che l'ho fatta io Perché Eh Mi hanno distrutta una Ho vinto Ho vinto Qualcuno di voi Ha detto anche Che l'ho fatta io Perché è piena di patate Queste sono Sono Cose Dedute Dei vostri commenti Quindi Vabbè Comunque Sono Buone motivazioni In realtà La vera Persona Che si cede di tutto questo È Solo io Brava Ho fatto tu Ho fatto tutto in inganno Complimenti Con la simmetria Che tra l'altro La simmetria è stata un errore Probabilmente Che ho fatto Perché altre cose Le ho fatte asimmetriche E ora Passiamo Alla Casa Moderna Che alcune di voi Hanno scomposto In casa moderna E bagno E vediamo un pochino Che cosa è successo Ah Qualcuno forse Stava notando Che stanno succedendo Dei disastri Sì Ci sono dei problemi In serie di text Anche i gradini Abbiamo già stato Nelle fence All'inizio video Ma anche i gradini Le danno i loro problemi C'è scritto che non è Voluto Quindi lo correggeranno Magari nella snapshot Che uscirà Mentre il video Andrà online Può darsi Sicuramente Se non le vedete Vuol dire che l'hanno Corretto in tempo E noi ci auguriamo Che non abbia raggiunto I creeper volanti Da tempo Eccola qui Questa bellissima casetta Tutta a rose e fiori E questo Bellissimo Come potevate pensare Che l'avessi fatta Cioè capiamo Esatto l'ho fatta io Perché avrei dovuto Fare sta casa Ma stava guardando Da qui per capire Chi l'aveva fatta Vedi che è asimmetrica Davvero? Certo Che brutto Come ti è venuto in mente? Ma te l'avevo anche mostrato L'altra volta No E perché non l'hai messa qui? Cosa? Dei vetri? Perché Perché altrimenti Veniva asimmetrica E' vero E' tutta sbaglia Come avete potuto Pensarlo? Ma è graziosa Questo Questo è disonore Verso di me Dai che è graziosa Comunque C'è anche la cartigianica Questo se pare Poi capiamoci Passiamo ora Al bagno Il bagno di Birch Come avete detto Avete relegato La Birch al bagno Questo significa Che probabilmente L'ha fatto Ora Non tutti Stiamo basandoci Su alcuni Dei vostri commenti Che ognuno di voi Ha dato dei pari diversi E questo ci fa piacere Perché notiamo Come siate vari E siete davvero fantasi Il mondo è bello Perché è vario Quindi E ognuno è unico All'estogeno Che ognuno dica La propria E la pensi diversamente E' più che giusto Il bagno Con la vasca da bagno Che in realtà Pensavo fosse il gabinetto E questo Il gabinetto è quello E' il posto per lacrime Deprimenti di Birch Prima che bruci L'ha creato Io Di nuovo E ora che Ma tu Hai fatto qualcosa La cosa più grossa E laboriosa Il castello Chi l'ha fatto Il castello Il castello In realtà Potevate pensare Qualcuno ha detto C'era un indizio Altri hanno detto Ma poteva essere Soprattutto un easter egg Dato che L vuol dire Vuol dire anche Eternal Love Giustamente Però Era anche un minimo indizio Che a volte Non prendetela come Una cosa sicura Perché se mai Rifacciamo questo Giochetto in futuro Ve lo mettiamo proprio In un posto di Chiri E vi freghiamo Quindi non contateci Però Alcuno di voi ha notato Che qui c'è scritto L Con la mosto Vedete la L E la E Questo è La mia unica Creazione Che ho fatto Sì Non è che sono stato Pigo È che ci sono stato Un po' a farlo Poi intanto Ho cercato Di sistemare le cose Ma dato che Chi si stava divertendo Tantissimo L'ho lasciata A suoi divertimenti Infine Ho fatto io Anche Le prigioni Cioè È una cosa Proprio piccolissima Perché i testificate Non si Vedono Perché ci sono Delle barriere Cioè non si vedono Non si possono muore Brutti Schifosi Segno di divieto Sui Sui testificate Secondo me Un po' arriva L'azienda di difesa Testificate E ci denuncia Ma non importa Ecco fatto Abbiamo Vi abbiamo detto Esattamente Chi ha costruito cosa Quindi Tutto Chiria A differenza Del castello E delle sue provisioni Il tuo castello È bellissimo Amore No vabbè Tutto bello Tutto bello Tranne il mio Giustamente Ma i testificate Però Cosa ci fa Tiziano Diamogli qualcosa da fare Lavora Lavora È inutile Lavora Che c'è Ah sì Vai Niente Avevo l'inventario Non so perché Avevo qualche posto Nell'inventario E vabbè Comunque complimenti A chi ha azzeccato Complimenti a chi non ha azzeccato Anche solo uno E complimenti anche A chi non ha azzeccato Nessuno Perché era la cosa Forse anche più difficile In assoluto Quindi complimenti a tutti Per aver partecipato Fateci sapere se vi è piaciuto Credete che lo rifacciamo altre volte Se abbiamo tempo di farlo Riusciamo a fare qualcosa del genere Se Bigger ci aiuta Perché qui vedo che Che dorme Cioè non è molto Molto Non è molto voglioso Di aiutare Dormi in piedi Esatto Ciao Vai inquietante Ma se a volte vi faccio Vurre la testa Di 360 gradi Come gufi E quindi Fatecelo sapere nei commenti E che ci fa piacere Naturalmente avere Altri sistemi Per interagire con voi Anche in questo modo Grazie infiniti Per stare con noi Questo è il video Della snapshot Che in realtà è finito Almeno 10 minuti fa Perché Golem e porte Fine Speriamo Non ci sono altre novità Sennò ve le faremo sapere Al più presto Grazie Un saluto anche dai creeper volanti Che sono al momento Estinti Ma torneranno Si stingono facilmente Vieni qua in una foto Mistica con Bigger Che è qui con Mamma mia Ci ha messo i tacchi Grazie ancora Per stati con noi In questa puntata E Alla prossima Coglie Ternalove Ciao 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 Ciao